... Facciamo un applauso più forte, la ragazza, la ragazza... Che è Francesca? Francesca? Vedi a Francesca la ragazza, eccola, un applauso! Che fai ho detto? Ragazze, sono brutte? Sono brutti? Mi aspettano al palco discoteca, quindi andate lì e ritroverete di tutto il loro splendore perché veramente oltre ad essere belli e belli ma sono veramente bravi facciamo un applauso bravissimi bravi bravi la rapida passione sul palco discoteca quindi ragazzi che volete scatenarvi mi aspetta la rapida passione sul palco discoteca grazie ancora grazie 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 mi date a dire le spalle no è il nano è che io faccio entravo con le domande e faccio entrare no bravi dai veramente allora bella sera bella caliente al palco discoteca e poi mi ricorda anche gli altri palchi quindi si balla ancora facciamo un applauso come si deve dai facciamo un bel applauso è bella sera perché è bella la nostra pianta di filonia facciamo un applauso uno solo vai così uno 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 vai di più vai 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 e poi perché adesso qua su questo palco anche lei è emozionatissima c'è una ragazza una giovane veramente talentosa noi l'abbiamo conosciuta lei non è ancora arrivata in televisione non è ancora raggiunto il successo che le auguriamo di avere come Deborah aiurato facciamo un applauso a Deborah però quindi che questo palco sia il suo portafortuna perché lei è veramente brava molto molto brava è una ragazza di Canare Monterano lei si chiama Arianna Giuffrida ed è veramente veramente brava facciamo un applauso ad Arianna che aspettiamo qua su questo palco vieni Arianna vieni Arianna Giuffrida ragazzi più più forti dobbiamo portare fortuna ad Arianna perché se lo merita è altra come me Arianna sei emozionata ma come siamo l'articolo in sembriamo Arianna veramente ragazzi ora la sentirete non ha ancora raggiunto diciamo la televisione però 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 Arianna secondo me ci sei vicinissima quindi facciamo un applauso un nome in bocca al lupo ad Arianna Giuffrida in più iniziamo con Think la conoscete sì